Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Studio Noises, io sono Filmax e oggi faccio un video un po' diverso dal solito. Infatti, se trovi difficoltà nello studio, se pensi di studiare tanto ma i risultati non arrivano, o se semplicemente ti sembra di non sfruttare al massimo le ore che dedichi allo studio e vorresti sapere se c'è un modo oggettivo per capire se stai davvero studiando bene, e sei sul video giusto, potremmo dire, come nelle migliori promozioni. Infatti, ovviamente, prima di continuare ti ricordo che puoi aiutarci gratuitamente seguendo il canale. Se i contenuti ti piacciono, ovviamente non ti dimenticare di mettere un mi piace e di condividere il video. Ma torniamo all'argomento in questione. Oggi parliamo infatti del metodo di studio definitivo, perlomeno il mio metodo di studio definitivo, ognuno di noi ne ha uno suo. Metodo di studio che ci può permettere di avere un corretto approccio allo studio e ci può far sapere in ogni momento se stiamo studiando correttamente e se stiamo sfruttando al massimo le ore che dedichiamo alla nostra preparazione. E quindi, non perdiamo altro tempo, io direi di partire subito col primo punto. Primo passo. Preparare il piano di lavoro. Il nostro metodo di studio si dividerà in sessioni, ma prima di sapere cosa sia queste sessioni, cioè prima di entrare nel cuore del lavoro, cerchiamo di trattare dei punti preliminari alla sessione di studio stessa, senza i quali non è possibile infatti concentrarsi in maniera adeguata, quindi affrontare in maniera corretta poi quello che andremo a vedere tra poco è la sessione stessa. Prima di tutto dovremmo predisporre il nostro piano di lavoro, quindi dovremmo fare in modo di avere sul nostro ripiano tutto ciò che ci può servire durante lo studio. Evidenziatori, righelli, calcolatrice, penne, matite, ma non solo, potremmo dire, oggetti di cancelleria, ma anche cosa è per noi, acqua se beviamo molto, fazzoletti se abbiamo il raffreddore, eccetera. Cosa non concesse invece il cibo. Durante la sessione, infatti come avete capito dal titolo, si chiama il metodo dell'eremo anche per quello, durante la sessione quando entriamo nell'eremo potremmo dire non è concesso mangiare, quindi si mangia o prima o dopo, mai durante la sessione. Questa sembra essere un'operazione banale o comunque superficiale, trascurabile, ma invece è una delle più importanti perché ci eviterà di doverci alzare durante la sessione di studio. Ricordiamoci infatti una cosa fondamentale, alzarci e abbandonare la nostra postazione mentre stiamo studiando, quindi mentre siamo in sessione, mentre siamo nell'eremo, è la cosa più pericolosa e deleteria per la nostra concentrazione. Quando noi ci alziamo per qualsiasi ragione, giusta o sbagliata, noi interrompiamo il nostro flusso di lavoro, interrompiamo, diamo un break, diamo uno stop al nostro cervello e questo rompe il nostro focus. Interrompe improvvisamente una sessione di studio, sto ritenendo ad esempio a metà, a metà è terribile, anche per pochi secondi ha un effetto deleterio su tutta la sessione di studio. Quindi risulterai meno efficace per tutto il tempo successivo. E qui iniziamo a capire un aspetto centrale della sessione di studio, è un po' come un'immersione subacqueo, proviamo a immaginarcela così. Quindi nei primi minuti della sessione è fondamentale tenere la testa sui nostri libri perché sono i minuti anche, potremmo dire, in cui il nostro cervello si ribellerà di più, cercherà di portarci fuori dal nostro status di concentrazione. Secondo passo, il nostro peggior nemico? Il nostro cervello. Ora penso che tu abbia ben capito qual è lo scopo del metodo stanare il nemico principale della nostra concentrazione. Qual è il nemico principale della nostra concentrazione? Il nostro cervello. Punto. Quello è il nemico del nostro studio. Infatti quella macchina perfetta, bellissima, meravigliosa che ci permette di studiare, di dare esami, di laurearci e di cambiare il mondo è purtroppo anche paradossalmente la più pigra e la più acidiosa, è l'organismo più acidioso che abbiamo. Cioè se il cuore fosse così acidioso noi saremmo morti appena nati. Quindi fortunatamente il nostro obiettivo, il nostro focus è attaccare questa acidia, distruggere questa acidia. È una lotta contro il nostro cervello. Ecco perché i nostri problemi di studio si verificano principalmente nelle fasi iniziali della sessione. Qui il nostro cervello, un po' come, potremmo dire, Lucignolo con Pinocchio, estrae tutte le sue armi per convincere, per piegare la tua volontà che la cosa migliore del mondo in quel momento sia fare qualsiasi altra cosa tranne che studiare. Infatti se ci pensiamo, quando noi procrastiniamo nello studio, cioè rimandiamo, continuiamo a rimandare nello studio, non lo facciamo mai per qualcosa di inutile. Cellulare a parte, ma ne parleremo tra poco. Solitamente facciamo volontariato, facciamo qualsiasi cosa tranne che metterci sui libri e fare il nostro, tra virgolette, il nostro dovere. Che poi, se si impara a farlo attraverso questi metodi, diventa anche un piacere. Quindi non è solo un dovere, dopo diventa anche piacevole. Il problema che molti hanno con la procrastinazione, infatti, è proprio questo. Quindi il tutto arriva a ridursi a un contrasto tra la nostra volontà e la nostra razionalità, cioè il cervello, che prova a trovare motivazioni per non farci studiare di continuo e per provare a distrarci, e prova a distrarci continuamente, soprattutto quando abbiamo tra le mani, adesso non ce l'ho qua con me, i nostri amati smartphone. La soluzione è solo una. Questa soluzione prende il nome di disciplina. La disciplina si applica con il metodo, con un unico metodo che poi è il metodo universale, che ritroviamo anche qua nel metodo dell'Eremo, che è, diciamo, il sottometodo del bastone e della carota. Cioè la battaglia con il nostro cervello e con la nostra ciglia la vinciamo in questo modo. Nel nostro metodo la carota è il nostro... la sessione è il nostro bastone, adesso vediamo cosa è la sessione, mentre la pausa è la nostra carota, con cui, tra virgolette, mettiamo buono il nostro cervello. Terzo passo, la sessione e la pausa. Ora capiamo cos'è la sessione. La sessione non è nient'altro che un pacchetto di tempo, da 45 a 50 minuti, che noi facciamo iniziare nel momento in cui iniziamo a leggere la prima riga del nostro libro, quindi non mentre stiamo finendo la sigaretta per entrare... No, nel momento in cui siamo in postazione, abbiamo predisposto il piano di lavoro, in quel momento apriamo il libro e facciamo partire. il timer. E quindi lì inizia la nostra sessione di lavoro. La sessione termina solo una volta che sentiremo il timer che ci annuncia la fine della sessione. Una volta iniziata la sessione saremo solo noi i nostri libri e gli strumenti che abbiamo sul piano di lavoro che abbiamo precedentemente preparato. Quindi non si va in bagno, non ci si alza, non si mangia, non si va a prendere acqua, cose, vivere, eccetera. La sessione è iniziata. Se dovete andare in bagno, ovviamente vi consiglio sempre di andarci prima e per 50 minuti, salvo incontinenti o incontinenze, solitamente, anche se si inizia ad avvertire lo stimolo, il nostro cervello non a caso inizia a dire hai una pipì terribile, vai in bagno, possiamo, potremmo dire, permetterci di prolungare, soprattutto se siano giovani, di prolungare un attimino fino allo scadere della sessione. Non ci sarà possibilità innanzitutto, oltretutto, di parlare, confrontarsi, alzarsi per nessuna ragione. Ragazzi, il metodo dell'eremo funziona in solitare, se no, si chiamerebbe il metodo dell'eremo. Quindi non cerchiamo gruppi di lavoro, eccetera, perché è vero che con altri metodi e con determinati tipi di studio sono efficaci, non qui. Quindi questo è un metodo che si applica nel silenzio e, tra virgolette, nella solitudine. Se stiamo studiando con amici, non ci deve essere alcun tipo di conversazione, infatti, che non venga fatta al di fuori della sessione. Cioè, se dobbiamo confrontarci, eccetera, eccetera, ci confronteremo dopo una volta terminata la sessione nell'eremo. In questo istante noi siamo entrati nell'eremo, infatti, e qui vige la regola del silenzio assoluto, concentrazione sui nostri libri e su ciò che stiamo facendo. Le porte dell'eremo si apriranno solo una volta che è suonato il timer, 45-50 minuti dopo, lì siamo noi, a seconda del nostro livello di preparazione, decidere quando impostare il timer. Se 5 minuti in più, 5 minuti in meno, sembrano quisquiglie, ragazzi, ma 5 minuti in più fanno la differenza. Cioè, vuol dire che se noi impostiamo il timer a 50 minuti, infatti, io consiglio sempre di iniziare con 45 minuti di sessione, vedere come ci si trova, rispettando le regole, cioè carta e penna insegnarsi le regole che abbiamo già detto e che diremo, e poi provate a impostare 45-50 minuti. Ragazzi, sentirete, sentirete veramente la differenza. Poi, quando siamo veramente abituati ad utilizzare questo metodo, possiamo anche provare 55-60, eccetera. E una volta finito, suonato il timer, solo lì sarà possibile quindi tornare a comunicare con il mondo. Ecco perché io consiglio sempre di acquistare un timer a parte e di evitare di andare a occhio. Ci sono dei bei timer, su Amazon costano pochissimo, e così avremo anche un'idea precisa di quanto abbiamo studiato. Cioè, se andiamo a occhio, il nostro cervello a un certo punto perde le coordinate temporali, non sappiamo più niente. Non mettiamo il cronometro, mettiamo proprio il timer, così abbiamo proprio, siamo sicuri di aver completato precisi, precisi, quella sessione. Ti lascio in descrizione il link di qualche timer economico, ma efficace, che anch'io utilizzo. Adesso purtroppo non ce l'ho qua con me, hanno dei belli schermoni, così possiamo anche tenere d'occhio il nostro tempo che scorre. Poi, non dimentichiamoci delle pause. Altro aspetto importantissimo. Io tra una sessione e l'altra consiglio sempre una pausa. Consiglio, è da fare una pausa, però io personalmente consiglio che la durata della pausa sia di 10 minuti, massimo 20. Ovviamente perché è da fare? Perché così abituiamo il nostro cervello a un impegno nel tempo che è sempre quello. Quindi il nostro cervello non è che facciamo la tirata 10 ore consecutive, magari ci riusciamo anche, poi il giorno dopo il nostro cervello dice, se mi fai fare una roba del genere, io mi spengo. Quindi il giorno dopo non apriamo un libro magari. Invece il nostro cervello si abitua, come andare in palestra. Si abitua a sessione che è sempre quella. Non una volta è una tirata, una volta sono 10 minuti, una volta ci arriva il messaggio, l'altra volta poi abbiamo la verifica, l'ultimo 10 ore. No, è sempre quella la fatica. Quindi il cervello si abitua a una fatica che è sempre quella. Ovviamente durante la prima sessione della mattina, dove siamo freschi, tendiamo a fare una pausa, tra una sessione e l'altra, più contenuta, una decina di minuti massimo. Verso fine giornata, le pause possono ovviamente aumentare progressivamente. La pausa, tra l'altro, è tanto importante quanto la sessione, perché è un premio che noi diamo al nostro cervello. Questo è importante, ripetere, è la carota da alternare al bastone. Quindi evitiamo delle studiate bulimiche di 10 ore. Perché è vero che quel giorno lì magari avremmo studiato tanto, ma non avremmo abituato, allenato il nostro cervello. Il giorno dopo, sicuro, non apriamo libri. E se non apriamo, siamo distrutti, studiamo male. Quindi abituiamo a, potremmo dire, spezzettare il nostro lavoro di studio. Ti ricordo che vanno cronometrate anche le pause, che ovviamente non rientrano nel tempo di studi, perché spesso si dice, faccio la pausa di 10 minuti, poi 10 minuti diventa 20 minuti, poi magari siamo andati in libreria, abbiamo trovato l'amica, andiamo a prendere il caffè, diventano 3 ore. Quindi vanno cronometrate anche le pause, esattamente come le sessioni. Quarto passo, la regola aurea. La regola aurea, che dobbiamo tenere presente, se vogliamo che questo metodo sia efficace, è la regola dello zero tecnologia. Quindi, zero apparecchi connessi alla rete. Abbiamo già accennato un pochino prima, ora lo ripetiamo. Questo metodo non funziona con il cellulare a 5 cm di distanza dal nostro libro. Se infatti decidiamo di entrare nell'eremo, lo facciamo nella consapevolezza di non voler dare la possibilità al nostro cervello di divagare, cioè lo imprisioniamo lì dentro. Preparare tutto il piano di lavoro e poi tenere il cellulare a 10 cm dal nostro libro, infatti, è come predicare l'astinenza nel quartiere a luci rosse. La probabilità che la sessione non incorra in intoppi nel giro, tra l'altro di pochissimo, è praticamente impossibile. Purtroppo, l'utilizzo di un PC per alcuni ambiti effettivamente è indispensabile. Lì sta a ognuno di noi essere onesti con se stessi e discernere il tuo caso dagli altri. Infatti, se utilizzare il computer significa avere 10 pagine con Facebook e quant'altro aperti sotto, questo non significa essere entrati nell'eremo. A ogni modo, reputo totalmente inutile in qualsiasi circostanza l'utilizzo del cellulare. Quindi, se il PC, in certi casi estremi, può pronare utile e va utilizzato, possono esserci volte, non ci sono volte, in cui lo smartphone sia indispensabile allo studio. Quindi, evitiamo le scuse. In linea di massima, lo smartphone va sempre spento e nascosto alla vista. Questa è la situazione ideale, infatti. Se invece per studio dobbiamo usare un PC, dobbiamo usare un programma, quindi Word, Excel o programmi che non richiedono una rete, ovviamente, anche in basso, senza escamotage, in basso in destra, noi sappiamo che si può attivare la modalità aereo. quindi anche nel PC in basso a destra, se volete cercare, c'è la modalità aereo, modalità in cui non si possono ricevere chiamate, messaggi, internet non funziona, è una modalità in cui il PC diventa uno strumento chiuso. Ecco che allora lì riusciamo a ripristinare l'intimità del metodo dell'eremo. Quindi, potrete continuare a usare il PC, ma togliendo le principali distrazioni, adesso connesso. Però attenzione perché comunque siete più a rischio di distrazioni e quindi cerchiamo di eliminare dal PC e di fare un focus, anzi, io dico, anche se siete abituati a usare il PC, per i primi periodi che vi abituate a utilizzare il metodo dell'eremo, lasciatelo a casa. Sarete meno performanti nelle ore di studio, ma vi assicuro che intanto imparate ad utilizzare il metodo dell'eremo che è sicuramente più importante, all'inizio è più importante che essere iper performanti. Quinto passo, ma se ho bisogno di cercare qualche informazione? E qui arriviamo un po' alle battute finali. Molte volte sento dire, ma se ho bisogno di cercare qualche informazione? Perché mentre studio mi viene una domanda, mi viene un'incertezza, non posso cercarla? Quindi, potremmo dire, questo metodo arrecca un danno alla mia ricerca, al mio studio, eccetera, perché mi limita? È ovvio che internet può essere anche una risorsa, non solo una distrazione di questo, penso, noi siamo tutti consapevoli. Per molto tempo anch'io sono rimasto combattuto e tendevo ad utilizzare Wikipedia come integrazione allo studio. salvo per incoraggiarmi che così facendo stavo più su Wikipedia che sui libri. Questo accade perché Wikipedia, tutti i motori di istruzione, splash latino, quello che volete, come ogni altro sito internet, ha un unico scopo che è quello di tenerti sulla piattaforma più tempo possibile. Punto. Quello è il loro scopo. Quindi, ti alletta di continuo con pagine curiose, divertenti, coinvolgenti e più ne ha, più ne metta. Ovviamente non così inutili come un TikTok o un Reel ma comunque totalmente disfunzionali a quello che è lo scopo e il focus della tua sessione nell'ermo. Quindi, come si risolve il problema? Beh, molto semplicemente lo risolvi con questi, con i semplici post-it. Questi li puoi tenere sempre a portata di mano. Io li uso per annotarci sopra le domande che mi vengono durante la sessione poi durante la pausa tra una sessione e l'altra se ho ancora dei dubbi uso ovviamente il cellulare mi riconnetto al web e vado a cercare le risposte alle domande ma comunque mai dentro la sessione. Sempre una cosa che viene svolta fuori dalla sessione. Quindi, impariamo a riconoscere subito questi segni. È molto importante anche riconoscere questi segni e ricordiamoci sempre che noi e ci metterai dentro grosso modo ormai il 90% dell'umanità siamo dipendenti tecnologici quindi siamo dipendenti dal cellulare come esattamente come se fosse una droga. Dopo un po' che non usiamo lo smartphone il nostro cervello inizia ad andare in sofferenza in crisi d'astinenza e quindi a cercare delle scuse per giustificare un suo uso e un suo consumo quindi per evitare ciò è sempre meglio evitare di poter interagire facilmente con il telefono. Conclusione In conclusione questi sono i miei consigli per un metodo di studio efficace se volete per curiosità fate una prova e ditemi nei commenti se funziona e nel caso se avete altri metodi di studio provate a scrivermeli qua sotto e magari a suggerirgli anche chi guarderà questo video e magari li proverò e li esporrò in futuri video ti ricordo sempre di iscriverti al canale se ti interessano questi contenuti se hai delle idee delle proposte per dei video successivi riguardanti filosofia storia contenuti culturali o anche metodi di questo tipo ti chiedo il favore di condividermeli qua sotto con un commento in maniera tale che li leggo e magari ricordatevi sempre che l'ispirazione la prima ispirazione viene da voi per questi video quindi io ti ringrazio iscriviti condividi metti un like noi ci sentiamo in un prossimo video grazie mille grazie a tutti